Senso unico da nord a sud di via Guglielmini e accesso interdetto tranne agli autocarri anche in via Piodecimo e nel tratto di via Guglielmini fra via Del Rù e via Borgo Faveri. E' questa la rivoluzione in atto da qualche giorno a Mussolente. Abbiamo istituito un nuovo senso unico in via tenente Guglielmini che dà la possibilità di avere più sicurezza per quanto riguarda il trasporto pesante in quella via. Il senso unico va da nord a sud, si immette nella statale e questo ci risolve un problema di viabilità all'interno di quel quartiere. Perché i mezzi pesanti uscivano da un'attività produttiva e si incontravano con altre macchine essendo la strada stretta non uscirono a passare. Una scelta dunque dettata da motivi di sicurezza ecco perché in questa primissima fase non scatteranno immediate le sanzioni. Ci sarà tolleranza rispetto a questo proprio per un periodo di prova però questa sarà la versione definitiva proprio perché così daremo sicurezza sia ai pedoni sia alle biciclette sia soprattutto al fatto che non ci sarà più l'incrocio tra auto e camio oppure tra camio e camio su una strada proprio molto piccola.